Stagione estiva ormai avviata ha riaperto ieri i battenti Shots, la Ciupiteria a Roccella Ionica, locale gettonatissimo che negli ultimi anni è riuscito a ritagliarsi un posto di primo piano nella movida Locridea. Vero e proprio punto di incontro dei giovanissimi e non solo, nasce dalla voglia di offrire al pubblico una affascinante alternativa alle tradizionali serate estive. Veranima di Shots e il suo staff, equip composta da ragazzi molto giovani, accomunati dalla volontà di investire le proprie energie in questa terra. Attraverso l'organizzazione di eventi e serate musicali Shots, la Ciupiteria, è riuscita infatti a coinvolgere e fare interagire realtà anche diverse tra loro. Realtà che hanno accolto questo innovativo locale molto bene fin da subito, contribuendo a far decollare un progetto divenuto oramai una grande famiglia, dove ritrovarsi nei fini settimana. Basti pensare che Shots ha dato impulso ad una sorta di inversione in tendenza, mentre prima infatti, per vivere al meglio la movida, i giovani erano costretti a spostarsi fino a Polistena, luogo in cui la Ciupiteria nasce. I gestori hanno scelto dapprima la bandiera blu di Rocella Ionica, come luogo più appropriato per aprire un nuovo locale, e da quest'anno New Entry è la nuovissima apertura di Rende. E' stata la rock band Trippa e Roll ad inaugurare la stagione estiva 2016 ieri, un ritmo travolgente che ha dato solo un assaggio di quella che sarà la nuova imperdibile agenda estiva di Shots. Grazie a tutti!